23, le battaglie che sono per la città, passate la battaglia a 1.000 euro è aumentata la distanza, quindi le 100 metri disperate in presidenza insieme ai 200, siamo alle battaglie finali il tempo per loro è di 22.69 il tempo la seconda prova per la battaglia a 1.2 tutti i punti sono per il posto di cari la seconda prova per la battaglia a 1.60 la seconda prova per la battaglia a 1.60 il tempo è passante la prova per la battaglia a 2.60 la battaglia a 1.30 la battaglia a 2.30 affrontando l'ultimo plazzo di percorso che avrà fatto il 22.11 e il loro tempo di riferimento è per adesso partita la prova abbiamo presentato gli ultimi metri per questa battaglia di rinunciare questa lunga poi nel tempo di Filippo Pino, il 26 e il 4 di cento fuori in questo istante anche per la battaglia di rinunciare Rosarino, Pasantino, Metta, Giannasta con la prete sul percorso di gara siamo in dirittura d'arrivo e il tempo di riferimento è per l'ora di 24 in 0 a 1 viene la partenza anche per la sesta battaglia che viene imponata in questo istante sul percorso di gara la vedete se non è l'ora di notizie stanno in patia contro l'alice in soffi Alessia vediamo all'uscita in curva in questo momento si spinge a fondo vento simpico è tempo a farla da padrone 23 e 23 è il riferimento per questa sesta batteria questa batteria 23 e 26 28 e il riferimento abbinato a questa settimana partita la prova anche Giannesti 4 versi in questo lungo portato dalla vita a pochi colori della polis per prima di prodotto di riferimento 22 e 71 22 e 71 partita la prova anche per l'artista non a batteria che stanno uscendo di curva in questo istante per la sprenza conclusiva l'ultimo sforzo sul traguardo finale 24 e il riferimento è quello che si fa buona partita a fare la fine di riferimento di riferimento di riferimento di riferimento di riferimento il passato di Gionda che si è la data per il passire e il passato di Gionda che la roma vive in questo istante 24 e 50 e 23 23 tempo di riferimento per questa cattoria o preghera via perché il 2% è la presenza che ha 3351 e il 5% 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 per loro 24 e 84 quindi la partenza anche per tutti e la parte si compongono tutti i cattordicensimi l'automia delle 23 in approvata vanno all'opportunità per il giro 22 e 48 un ottimo tempo per questa la prima prova anche per l'azienda 24 metti, 24 giugie 24 giugie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.